E con Marika Codice 05 finisce la gara di questa sera. Allora, Sonny, vogliamo... Intanto grazie, è veramente... È sempre bellissimo stare qui con te e con tutti coloro che fanno parte di questo programma. Senti, ma diamo l'appuntamento nella tua scuola? Ah, sì, ci vediamo a Piazza Eschilo, ad Acilia, quindi qui a Roma. Abbiamo corsi di tutto, quindi siamo una vera e propria scuola di danza. Veniteci a trovare il martedì e il giovedì dalle 6 alle 22. Mi raccomando, andiamolo a trovare, Sonny! Alla prossima settimana! Ma quanto sei forte! Allora, ecco qui intanto la nostra giuria schierata. Giurati, giurati. Giuria, giurati. Iniziamo dalla signora Daniela Serpe. Vorrei lasciare il presidente di giuria per ultimo. Allora, questa sera i ragazzi secondo me sono stati molto bravi come interpreti. C'è una persona in particolare che mi ha colpito particolarmente perché è uscito un po' dai canoni rispetto a quella che era l'immagine della canzone e mi è piaciuta tantissimo. Grazie, Daniela! Ecco l'altra Daniela. L'altra Daniela. Paola, questa sera mi sembra che con l'interpretazione siano andati in meglio. Ti sono piaciuti di più. Ti hanno convinto di più. Marco, Marco Petrozzi? Beh, io o faccio la parte del cattivo o del buono. L'interpretazione, sì, sono d'accordo con loro. C'è stato qualche piccolo difetto a livello tecnico. Però comunque è scusabile perché sono dei ragazzi molto giovani e cantano con la base davanti a un pubblico e davanti a cinque telecamere. Insomma, grazie. Grazie. Angelo, a te. Allora, confermo quello che hanno detto i miei compagni. Devo dire che mi è piaciuto molto una persona che era veramente ben vestito. Hai capito come? Io faccio la mia metafora con l'armadio. Si è vestito bene. Oggi o oggi ho trovato un bel vestito. Mi è piaciuto molto. Quindi ti è piaciuto la voce, la canzone, il look. Tutto, il personaggio. Quando dico personaggio, uomo o donna. Attenzione. Certamente. Perché c'è un solo ragazzo in gara. Sì, grazie. Benissimo, grazie. Mi mancava la parola. Non so, oggi mi manca. La tua bellezza mi... Così, non so. Senti. Sì. Che ci conosciamo da una vita.